Purtroppo ci sono centinaia di modi per cui una transazione bitcoin può essere collegata alla vera identità di qualcuno La vera pseudonimia contro un avversario intraprendente è molto difficile da raggiungere Qualsiasi approccio all'anonimato in bitcoin richiede un uso olistico degli strumenti di criptografia e di comunicazione come PGP, OTR e TOR Nel giro di pochi mesi potreste entrare in contatto con centinaia di nirizzi bitcoin Spesso è necessario associare solamente uno di questi indirizzi alla tua vera identità per scoprire chi sei Ogni transazione bitcoin contiene almeno un input da cui provengono i bitcoin e almeno un output dove vengono inviati i bitcoin Ciò significa che una volta che un singolo indirizzo è noto c'è una pista che permette di seguire i bitcoin Un'altra caratteristica delle transazioni sul protocollo bitcoin è che devono sempre corrispondere alla transazione precedente Se si riceve un BTC ma si desidera successivamente inviarne solamente 0.4 Sarà necessario effettuare una transazione da un BTC 0.4 saranno catalogati ed inviati come pagamento Mentre i restanti 0.6 torneranno indietro al mittente come cambio Non è per niente difficile, prova a pensarci un attimo È esattamente quello che succede quando paghi una caramella da 10 centesimi con una moneta da un euro Tu dai al commerciato un euro e successivamente ti vengono restituiti i 90 centesimi Il tuo portafoglio bitcoin gestirà questo processo automaticamente Ma è importante che tu comprenda il funzionamento delle transazioni bitcoin per poterle effettuare in modo veramente anonimo Il proprietario del bitcoin originale non saprà cosa hai fatto con i soldi Ma può comunque vedere le quantità coinvolte Può vedere due transazioni sul tuo conto Una di 0.4 ed una di 0.6 Non può vedere che cosa hai effettivamente acquistato E non può nemmeno vedere qual è l'effettivo costo e qual è il resto del servizio o prodotto che hai acquistato Hai il 50% di possibilità di indovinare La volta successiva in cui effetti una transazione la possibilità arriva al 25% e così via Questo è il motivo per cui effettuare molte transazioni anche tra te e te aumenta il tuo anonimato nella rete bitcoin A patto che il tuo wallet o portafoglio, ovvero il software che utilizzi per gestire i tuoi bitcoin Non riutilizzi gli indirizzi più volte Allo stesso modo se ricevi 0.5 BTC ma vai a inviare un BTC È necessario che tu sia in possesso di indirizzi bitcoin aggiuntivi con un valore combinato di almeno 0.5 BTC Anche in questo caso, se qualcuno vorrà tracciare la tua transazione, avrà comunque il 50% di possibilità di farlo Ma ora hai un indirizzo bitcoin in più che è pubblicamente visibile Avere indirizzi bitcoin visibili pubblicamente potrebbe rendere più facile scoprire la tua identità Il tuo vero nome potrebbe essere collegato da una transazione bitcoin quando questa viene effettuata, ad esempio, per acquistare beni online e facendoli recapitare al tuo vero indirizzo La maggior parte degli exchange di bitcoin e i principali ATM automatici richiedono spesso di verificare la propria identità prima di effettuare un acquisto Quando acquisti bitcoin da qualcuno di persona, invece, la persona in questione avrebbe la conferma della tua identità in modo diretto E potrebbe decidere di tenere traccia della transazione effettuata e delle future transazioni dell'indirizzo da te usato per ricevere BTC Questi dati potrebbero cadere nelle mani dei tuoi avversari Nel caso peggiore, invece, potrebbero anche essere resi pubblici Le leggi anti-riciclaggio di denaro, anti-money laundry, ignore your customer, del tuo paese potrebbero inoltre richiedere di rivelare la tua identità al momento dell'acquisto o della vendita di bitcoin Rendendo difficoltoso nascondere le tracce di questi ultimi sulla blockchain I tuoi avversari utilizzeranno le solite comuni e stancanti scuse circa narcotraffico, riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo per privarti della tua privacy e libertà Il problema della tua vera identità legata ad un exchange o qualsiasi altro cripto servizio online non è relativo solamente all'exchange stesso Che appunto detiene tutti i tuoi dati sensibili, tra cui le foto dei documenti come carta di identità e passaporto Ma si estende in maniera enorme a possibili entità esterne In questo esatto momento, sul mercato Darknet chiamato Dread, un venditore che si fa chiamare ExploitDot Sta tentando di vendere i dati degli utenti dei maggiori exchange di criptovalute che effettuano il KYC Che è, come abbiamo accenato in precedenza, un obbligo legislativo richiesto dalla maggior parte delle giurisdizioni Secondo i dati condivisi con CCN, l'ACER ha cominciato a vendere i dati degli utenti dal luglio 2018 Comprese le copie delle carte di identità e delle patente di guida Gli exchange ha creati includono nomi conosciuti come Bittrex, Poloniex, Bitfinex e Binance Qualcuno ha parlato di furto di identità? Quando effetti una transazione Bitcoin, stai essenzialmente creando e firmando un messaggio sul tuo telefono o computer E inviandolo alla rete Bitcoin Qualcuno che gestisce un gran numero di nodi della rete Bitcoin potrebbe essere in grado di abbinare alcune delle tue transazioni al tuo indirizzo IP Quindi denonimizzare l'intero tuo patrimonio di Bitcoin È relativamente facile evitare ciò su un computer inoltrando tutte le transazioni attraverso la rete Tor La maggior parte dei client e dei portafogli Bitcoin supporta il proxy SOX5 di Tor Non appena un indirizzo Bitcoin viene inserito nella blockchain Viene registrato pubblicamente in un database globale ed immutabile Prima che ciò accada è probabile che solamente le due parti coinvolte nella transazione Il destinatario e il mittente Fossero a conoscenza di tale indirizzo Se effettui la ricerca di un indirizzo Bitcoin che non è ancora apparso e scritto sulla blockchain Due sono i casi O sei il proprietario dell'indirizzo stesso O sei qualcuno che sta chiedendo aspettando un pagamento Per evitare di essere tracciati nella fase pre-blockchain È importante che effettui tutte le richieste di pagamento ed altre menzioni circa i tuoi personali indirizzi Bitcoin Tramite canali sicuri e crittografati Questi tre punti sono importanti Ascoltami con attenzione e tieni la mente 1. Assicurati che il sito web che stai visitando abbia attivato HTTPS quando ricerchi indirizzi Bitcoin 2. Utilizza una VPN e Tor quando ti è possibile 3. Rendi sicure e crittografa tutte le tue comunicazioni con PGP e OTR Un messaggio firmato è l'unica prova certa del fatto che possiedi un indirizzo Bitcoin senza che tu sia costretto a rivelarne la chiave privata Presta molta attenzione quando firmi i messaggi utilizzando le tue chiavi Bitcoin I messaggi firmati sono una gran funzionalità Parleremo del perché nelle prossime righe Ma permettono a chiunque di sapere che controlli l'indirizzo Bitcoin da cui hai firmato il messaggio stesso Se qualcuno sta cercando di deanonimizzarti potrebbe essere soddisfatto con una prova più debole di un messaggio firmato Il fatto stesso che tu tenga un registro degli indirizzi pubblici è una prova sufficiente per trarre la conclusione che sei coinvolto in transazioni Bitcoin E la blockchain di Bitcoin indicherà esattamente quali transazioni Tutto quello che un avversario deve fare per tracciarti è quello di cercare uno dei tanti indirizzi che hai registrato La maggior parte dei portafogli memorizza gli indirizzi pubblici senza criptografarli Solitamente infatti vengono criptografate solamente le chiavi private Questo è positivo per la semplicità di utilizzo e per l'esperienza dell'utente Tanto che non sarà necessario digitare una password ogni volta che desideri visualizzare il saldo o controllare le transazioni Però questo ha un importante difetto È possibile comunque archiviare in modo sicuro il portafoglio in una chiavetta USB esterna Un servizio da archivazione cloud o persino nel proprio account di posta elettronica A patto che le chiavi private e gli indirizzi siano sufficientemente oscurati Ricorda infatti che chiunque abbia accesso a questi mezzi può stimare quali indirizzi controlli E vedere le transazioni che hai effettuato e che effettuerai Per proteggerti è necessario che i criptografi emetti in sicurezza tutti i file e backup relativi al tuo wallet con una seconda password o PGP Le tecniche avanzate di Bitcoin Forensics che derivano dalla computer e network forensics Si basano su tecniche tradizionali come l'analisi forense di un device che contiene o conteneva un wallet E su tecniche più innovative che includono cyber intelligence nel mondo cripto finanziario Alcuni servizi open source in uso dagli analisti di forensics comprendono Keyhunter che è un pacchetto Python che recupera chiavi in hard drive danneggiati BTC Scan che è un pacchetto software Python che cerca stringhe relative al base 58 check del Bitcoin Le fork rappresentano una serie minaccia per la rete Bitcoin e per la privacy dei suoi utenti Dando incentivi alle persone ad effettuare transazioni con indirizzi con cui altrimenti non negozierebbero Ad esempio gli exchange Se un utente compra o mina Bitcoin in modo anonimo Le transazioni e ancora più specificatamente la vendita di monete create dopo una fork Sono eventi che molto spesso permettono la deanimizzazione dello stesso Non a caso la maggior parte di ballene di Bitcoin sono state individuate proprio grazie alla loro ingenuità dopo una fork Molti di questi hanno avuto infatti la brillante idea di vendere immediatamente le monete generate Facendo uscire allo scoperto il proprio indirizzo pubblico, la propria identità nel mondo reale ed il proprio patrimonio Alcuni esperti di Bitcoin consigliano di non badare alle fork Quindi di non vendere le monete generate come risposta a questo problema Tuttavia per molti non è un consiglio di essere seguito dal momento che il punto focale del design di Bitcoin È che gli individui seguono gli incentivi nel loro interesse personale Finché quindi le fork hanno un valore nel mercato, le persone saranno incentivate a venderle o comprarle In questo caso i consigli, anzi le parole, sono sempre le solite Tails, VPN, proxy, exchange decentralizzati senza KYC ed anti-money laundering Mixer e scambio TC, ovvero over-the-counter Alla fine di questo corso trovate comunque tutte le guide tecniche a tal proposito Alla fine di questo corso trovate! 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 Alla fine di questo corso trovate!